In questo contenuto vi andrò a mostrare cos'è che veramente partecipa alla creazione dell'inflazione in questo momento negli Stati Uniti d'America. Ciao ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Allo stesso tempo vi dico anche che ho dovuto registrare di nuovo, sono circa le 7.30 di sera, ho dovuto ricominciare tutto da capo. Avevo realizzato questo video alle 16.30 ma lo scenario è mutato. Non tanto nell'interpretazione, nel racconto dei dati sull'inflazione che sono usciti oggi, quanto nei movimenti, nelle reazioni del mercato e anche nei titoli dei giornali. E voglio approfittarne proprio per dirvi che spesso e volentieri giornali, analisti, cercano di spiegare le situazioni del movimento di borsa di un sottostante, ma in realtà si cerca di intuire, si inventa, si ipotizza, non sempre si sa esattamente perché c'è un po' di pressione rialzista o ribassista, ci sono tanti attori in gioco, vi ha tanta speculazione. A dimostrazione di questo, l'S&P 500 era positivo per decine di minuti dopo le letture dei dati sull'inflazione, i dati che sono arrivati oggi. Tant'è vero, qui abbiamo la cronologia, 4 ore fa i mercati americani aprono più alti dopo l'inflazione, cioè i report, i dati che sono usciti. Salvo poi andare ad aprire adesso i titoli e tutti dicono che l'inflazione è rimasta un po' appiccicosa, più del previsto, quindi i mercati sono spaventati e temono un rialzo dei tasse di interesse. Poche ore fa, inoltre, il movimento del petrolio mi ha veramente stupito. Difatti viaggiava, sia il Brent che il WTI, viaggiavano a più 2%, stavano volando in giornata. Vi era questo titolo in cui si andava a spiegare come l'Arabia Saudita, in contraddizione con quello che leggevo praticamente ieri, dovrebbe forse tagliare ulteriormente la produzione e quindi si è creata qui una pressione rialzista dei prezzi. Guardate poi il movimento clamoroso del petrolio oggi in intraday. Quindi prima è schizzato verso l'alto e poi ora sta letteralmente precipitando. In ogni caso, se lo vediamo sui tre mesi, dopo un impulso rialzista tutto luglio, agosto e settembre, è arrivato a 94 al barile, adesso vedete si trova a 82, quindi è di nuovo calato ed è ritornato a dei prezzi più consoni per quanto elevati, ma sta in tendenza ribassista, questo dovrebbe favorire comunque l'inflazione nel prossimo futuro. Ma andiamo a leggere i dati veramente sull'inflazione. Oggi è uscito questo 3.7, si sperava qualcosina in meno, ma non è aumentata l'inflazione, è rimasta in linea. Però la Fed, come vi racconto sempre io perché ce lo dicono loro, è concentrata sulla Core. E quindi se si va a leggere questo dato, se ci si concentra su questo, in realtà la giornata è positiva. Quindi il dato è positivo, l'SMP500 stava su, ma poi ci possono essere diverse interpretazioni, diversi modi di leggere i dati e le tendenze. E anche i creatori di contenuti come me, o gli scrittori, o diciamo coloro che scrivono gli articoli giornalisti, possono scegliere delle tesi un po' più da falco, un po' più da colomba, o un po' più disfattiste solitamente perché attirano più attenzione, attirano più lettori, ascoltatori, telespettatori e così via. Quindi chi vuole essere un po' più positivo nella sua lettura e interpretazione, si concentra qui sulla Core Inflation, che è un dato sicuramente esatto, e vede una continuazione molto importante della discesa dell'inflazione. Poi noi possiamo spostarci su un altro dato ed essere sicuramente pessimisti e dire che l'inflazione, giustamente, è più appiccicosa del previsto. Guardiamo, osserviamo il dato sul mese e qui troviamo 0.4 per quanto riguarda Consumer Price Index Urban, vedete? E qua il Consumer Price Index Urban, vedete? Con consumers, less food and energy, quindi meno food, quindi il cibo e l'energia, più 0.3. Se guardate le colonne, questi sono dei dati non incredibilmente elevati come quelli a cui abbiamo assistito nel 2021 e nel 2022, tuttavia sono più elevati di quanto magari ci si aspettasse e soprattutto rispetto a epoche meno inflattive come quelle del 2018-2019, epoche normali. Della serie c'è il rischio che questa inflazione rimanga un po' appiccicosa, che non riesca a soffocare questo circa 4%, 3.7, quando il target è al 2% e quindi si teme un'ulteriore stretta per dare un'ultima schiacciata all'inflazione da parte della Fed, con tutte le cose spiacevoli che andrebbero a verificarsi sul mondo del debito, sui bilanci aziendali, sull'economia delle famiglie, che più ne ha più ne metta. Ora io mi sposterei anche qui, perché sento tanti dire l'energia creerà una nuova ondata inflazionistica, e attenzione vi ricordo che stiamo parlando degli Stati Uniti d'America ragazzi, quindi non dell'Italia, non dell'Europa, e dobbiamo anche andare a contestualizzare, ovvero sono produttori e estrattori di materie prima in campo energetico gli Stati Uniti, quindi hanno una forte indipendenza, questo ricordiamocelo, perché altrimenti non capiamo come mai magari lì il prezzo al distributore è rimasto stabile nell'ultimo anno, quando noi abbiamo a volte delle oscillazioni più importanti e più negative. In ogni caso, guardate, andiamo qui a zoomare e non vedo la pressione rialzista dei prezzi alla pompa di benzina, come qualcuno teme con tutto quanto quello che potrebbe conseguirne a livello inflattivo. Tant'è vero, questo dato di un anno fa ha il gallone 3.78 contro quello odierno del 2023, vedete qua 2 ottobre, abbiamo 3.79, quindi non c'è alcuna differenza, no? E se noi invece andiamo a sviscerare veramente l'inflazione, almeno capiamo ad oggi, c'è l'ultimo dato che abbiamo qui a disposizione, scorporata l'inflazione, da dove stia arrivando. Stiamo parlando non della core, ma di quella normale, quindi 3.7. Da cosa è dovuta questa benedetta o maledetta inflazione? Perché così riusciamo a vedere poi quella che è la tendenza. Guardate, food in questo momento contribuisce con un più 0.5%, quindi nulla di così sconvolgente in questo momento, una roba diciamo abbastanza accettabile, no? Poi abbiamo l'energia addirittura con un meno davanti, 0.073, quindi è piatta la contribuzione in questo momento rispetto a un anno fa. È piatta anche la contribuzione delle materie prime, che è pari a 0, escludendo food ed energy, vedete, 0.014, quindi energia e materie prime non pervenute, non stanno contribuendo all'inflazione. Il food in minima parte. E invece abbiamo i services, i servizi, escludendo energy services, quindi l'energia legata ai servizi, 3.2. Quindi questa è la voce che sta generando inflazione all'interno degli Stati Uniti d'America. Ma c'è una cosa molto, molto positiva. Guardate la tendenza deflazionistica perpetua di questa voce. Era salita tantissimo e sta scendendo e continua a scendere. Per ora si attesta ancora a un 3.2, ma è praticamente quasi l'unica voce che sta, ed è in discesa, che sta tenendo l'inflazione su. Ora, andiamo un po' a vedere dei titoli molto importanti. Perché oggi c'è stata questa reazione, ma le dichiarazioni verbali della Fed, praticamente quelli di ieri, dell'altro ieri, dell'altro ieri, 10 ottobre 2023, guardate, tanti titoli che ho portato e ce ne sono tantissimi, ulteriori da andare a leggere, l'interesse, il tasso di interesse chiave della Fed potrebbe non andare più in alto, dicono dei funzionari. Ma anche questo titolo, dai verbali della Fed, emerge che i tassi rimarranno alti, quindi non commenteranno, rimarranno come sono for some time, per un po', per un po' di tempo, molto vaga come informazione, per un po' rimarranno così, poi si vedrà. Allora, andiamo a vedere a livello probabilistico. In questo istante, vedete, il primo novembre, le probabilità di un rialzo sono date al 10.6%, contro un no change dell'89.4%. Quando, ad esempio, un mese fa, invece, stavamo quasi 50-50, ragazzi, stavamo a un no change del 55% e addirittura un aumento del 41.1%, diciamo, un più 0.5% come aumento è dato a 3.1%. Praticamente adesso al 90%, cioè quindi il mercato è molto, molto, molto sicuro, a livello probabilistico che non debbano esserci degli aumenti. Poi vedremo che nei prossimi giorni cambierà questa statistica. E se noi qui andiamo a vedere le probabilità adesso di ogni mese in avanti nel tempo, il parametro no change è quello sempre dominante e invece va a cambiare a luglio 2024, ovvero si scommette che ci sarà un taglio. Quindi vedete, no change 20, più basso 73.4%. Quindi adesso il mercato, a livello probabilistico, ci va a dire che è convinto che la metà del prossimo anno cominceremo già ad assistere ai tagli di interesse. Anche se fino a poco tempo fa la retorica era un'altra. E poi, vedete qui, è dato questa situazione, è già mai rappresentata da queste due linee, da questa struttura. Quindi, vedete qui, futura, 2024-2025, del livello dei tassi di interesse. Qui si prevedeva, questa era la previsione di una settimana fa e questa è quella di adesso, quindi la visione è diventata sicuramente più bassa. Molto, molto interessante. Quindi si prevede l'assenza di un ulteriore rialzo e poi magari anche un taglio anticipato o comunque che parte da valori più bassi, se non ci saranno altri rialzi. Quindi, concludendo, vi vorrei lasciare di nuovo con questo sometime, ovvero, per un po', della serie, il dibattito, credo che si stia spostando, al di là del dato odierno che possiamo interpretare in maniera un po' più negativa, un po' più positiva, si sposterà su quanto tempo, per quanti mesi, perdurerà l'attuale tasso prima che venga tagliato. E non tanto, quindi, se verrà ancora alzato. Ci si crede sempre di meno. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi auguro il meglio nella vita degli investimenti e visto l'attuale scenario sempre più in degenerazione a livello globale, con le guerre, con delle cose che non vogliamo vedere e continuiamo inesorabilmente a vedere, auguro anche il meglio, ragazzi, a tutti quanti gli innocenti di questo mondo. Io vi saluto e vi do appuntamento a prestissimo. Io vi ringrazio per l'attenzione.